Per l'estate in Arzignano un ricchissimo programma di appuntamenti, di eventi, 150 eventi fino a settembre. Ne parliamo con l'assessore alla cultura del comune di Arzignano, Mattia Piero Panna. Ecco, dicevamo davvero un ricco programma. Ma sì, Arzignano è sempre una città viva e lo è ancora di più in estate quando l'amministrazione comunale assieme a tantissime associazioni del territorio organizzano un ricco programma degli eventi. Gli arzignanesi ormai sono abituati al libretto che nei prossimi giorni verrà distribuito in tutte le case. Vi invito a sfogliarlo, a poter approfondire cosa potrete godere quest'estate di Arzignano in maniera tale poi da venire e partecipare a questi ricchi appuntamenti. Ecco perché ce ne sarà proprio per tutti i gusti, possiamo dire. Esattamente, la volontà dell'amministrazione innanzitutto è quella di donare alla città l'opportunità di divertirsi, di passare del tempo assieme e di farlo in maniera serena, gratuitamente, perché tutti gli appuntamenti sono gratuiti e sono aperti a tutti. Poi per i gusti abbiamo cercato di colpire un po' nel segno in tutti gli aspetti culturali e contemporaneamente cercando di far divertire dai più piccini ai più grandi. Ecco, possiamo ricordarne qualcuno? Gli eventi sono di diverso genere. Sicuramente il clou lo si ha il 24 giugno con la Notte Bianca, giornata incredibile dove le piazze si trasformano di notte. Ci saranno tantissimi eventi con i commercianti, con i bar del centro, stiamo organizzando delle cose davvero belle. E quindi sarà una festa della città, ma sappiamo che la Notte Bianca accoglieremo anche tanti cittadini non di Arzignano. Quindi è anche un modo per far vedere quanto è bello il nostro centro e quanto è bella la nostra città. Poi penso a diverse rassegni interessanti che vanno a toccare diverse sfere culturali. Ad esempio, Vivi la tua terra, organizzata dalla Proloco, che è nostra partner su tutte le iniziative estive. Grazie Vivi la tua terra ci saranno una serie di appuntamenti in luoghi tra l'altro nascosti anche della nostra città. Quindi andremo a conoscere di nuovi spazi, di nuovi ambienti dove appunto verranno realizzati degli appuntamenti culturali di approfondimento legati al territorio. Altro appuntamento, altro assegno importante che mi fa piacere sottolineare è il mercoledì by night. Nei mesi di luglio, ogni mercoledì sera, i negozi di Arzignano rimarranno aperti per darci l'opportunità di compiere lo shopping serale con la serenità e assieme a tutta la famiglia. E contemporaneamente nelle piazze verranno diversi eventi dedicati appunto alle famiglie, quindi più dedicati ai bambini. E saranno delle piccole notti bianche, cioè dei piccoli momenti in cui di notte, di sera, la città si trasforma ed è ancora più accogliente rispetto agli altri giorni. Ma ricordiamo che Arzignano non è solo il centro storico. Esattamente, le piazze saranno sicuramente vive, ma sarà viva tutta la città grazie a tantissime associazioni e gruppi di volontari che organizzano le feste di quartiere a cui noi siamo molto legati tradizionalmente e che l'amministrazione cercherà e cerca di supportare in tutte le maniere. Abbiamo sentito tantissimi appuntamenti per questa estate in Arzignano, quindi vietato stare in casa, Sindaco? Sicuramente le invito ai miei cittadini e non solo, ma anche ai cittadini dei comuni limitrofi che normalmente partecipano, perché Arzignano è sempre first, come si dice. Non state a casa nelle serate, venite a frequentare le piazze di Arzignano, la biblioteca, gli altri loci deputati e le manifestazioni, il castello di Arzignano, il parco di Villa Brusarosco, la pieve di San Bortolo dove c'è la sala civica. Si è frequentata, perché il tabellone è ricco, abbiamo voluto mantenerlo lì, ricco, senza ulteriormente spese aggiuntive. Ovviamente abbiamo chiesto a sponsor, che hanno anche accettato, si sono aggiunti, perché credono non solo nel numero delle manifestazioni, ma nella qualità. Oltretutto si aggiunge anche tutta una serie di laboratori da giugno a settembre in biblioteca, che grazie ad alcune modifiche strutturali all'interno, permettono tutta una serie di percorsi che saranno sicuramente supergettonati.